In realtà sono venuto qui per parlare di tuo padre. Mi ha colpito una cosa che ha detto. Cioè che per dimostrare la sua innocenza si affiderà la giustizia. E... Se l'ha detto vuol dire che ti riconosce la capacità di... andare oltre all'odio che provi per lui e trovare la verità. Ti sta dando la possibilità di essere un poliziotto migliore. Già. Ultimamente non lo sono stato molto. Puoi sempre cambiare. Sai ci sono cose in questa storia della bomba che non mi tornano. Se la giustizia sarà giusta mio padre verrà assolto. Perché questo crimine non l'ha commesso. Ma lo sarà? Sarà giusta? Per quanto mi riguarda sì. Però non è nemmeno del tutto vero che sono venuto qui solo per tuo padre. Ti volevo ringraziare. Per non avermi messo in mezzo. Insomma non aver detto che ero con voi quando l'hanno arrestato. Ti andrebbe di venire a cena da me? Una di queste sere? Sì. D'accordo. Ok. Dovresti stare alla larga da quello. D'accordo.